Carissimi come state? Vi invito ai prossimi eventi che saranno trasmessi dal Virtual International Concert Hall sulle Suites di Bach. Non mancare. Farò delle dirette tutte dedicate alle 6 Suites di Bach. Per presentare la mia nuova edizione delle Suites di Bach è disponibile i medi da su Amazon, il mio libro che racconta la genesi, la storia, la struttura delle Suites, e molto altro ancora vi aspetto. Buona musica a tutti. Ci vediamo presto con le 6 Suites di Johann Sebastian Bach perché non ce le sono. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.